Sono tutti ballerini e ballerine professionisti usciti dalle accademi, dalle scuole del teatro e dell'opera che interpreteranno il balletto Dante Sommo Poeta. Poi abbiamo, oltre ai ballerini, la partecipazione dell'attore Graziano Sirci nel ruolo di Dante. È uno spettavolo che abbiamo creato nel periodo del Covid, perché i ballerini erano fermi e ho detto che bisogna che li sproni in qualche maniera. Così gli ho dato questo incarico. Due di loro hanno fatto le coreografie, per cui uno sarà già da Primiano, che è ballerina e coreografa, e l'altro Fausto Bavarozzi, anche lui ballerino e coreografo. Hanno creato con la loro fantasia un balletto sulla Divina Commedia e sui sonetti della vita breve di Dante. Quindi è ambientato anche nei tre mondi dell'oltretumba di Dante? Certo, Inferno, Paradiso e Purgatorio. In quanti si esibiranno? Sono sette ballerini più l'attore, otto, che sono in scena. Interpreterai Dante? In questo spettacolo. Lo spettacolo, ricordiamo, si chiama Dante, sommo, poeta. Come sei riuscito a entrare in questo ruolo? Non credo che sia un ruolo facile. Allora, in realtà non lo so se ci sono entrato. Questo spetterà agli spettatori, puoi dirlo, se veramente, effettivamente ci sono entrato. No, c'è una sorpresa nello spettacolo che aiuta un po' a capire anche il mio personaggio. Si scoprirà solo alla fine chi sono effettivamente. Però sì, durante tutto il percorso, insieme ai ballerini, io sarò Dante. Ecco, come ti sei integrato all'interno di questa compagnia? Beh, in questo ha aiutato sicuramente la musica, le musiche di Marco Schiavoni. E in questo spettacolo, appunto, la danza e il recitato, poi vedrete, sarà un tutt'uno. Quindi è stato molto semplice, in realtà, entrare dentro insieme a loro. Perché comunque Dante, in alcuni momenti, interagisce con le varie figure che i ballerini rappresentano. Io sono entrata nell'Astra Roma Ballet nel 2022. La signora Diana Ferrara mi ha vista durante uno spettacolo e da lì mi ha, diciamo, chiamato per un'audizione. È stato per me il secondo spettacolo con l'Astra Roma Ballet. E in Dante, sommo poeta, interpreto diversi ruoli. Sono in diversi quadri, come ad esempio nell'introduzione, in cui rappresentiamo il popolo. Sono nel quadro delle tre fiere, nell'inferno, nelle arpie e in lucifero, quindi sempre nell'inferno. Dopodiché negli angeli, nel purgatorio, esiliati e negli angeli, quindi nel quadro finale, nel paradiso. A livello musicale, le musiche sono state composte appunto appositamente per l'Astra Roma Ballet da Marco Schiavoni, dal compositore Marco Schiavoni. Io spero che possiamo essere noi come compagnia questa sera di ispirazione e spero davvero che possano realizzare i loro sogni.